Gentili telespettatori, buona giornata. Colpo di scena, Vauro il vignettista dice sono d'accordo con la Meloni. Per la prima volta nella mia vita sono d'accordo con la Meloni, ma attenzione non è quello che sembra. Sapete che la Meloni quando ha visto De Luca, che qualche settimana fa l'aveva definita una str, quando la Meloni ha visto De Luca ha detto buongiorno presidente, sono quella str della Meloni, come va? E lui ha risposto bene grazie, benvenuta. Ecco, Vauro vignettista, poi anche presenza televisiva ormai da anni, dice sono d'accordo con la Meloni, quando dice sono quella str della Meloni, lui dice sono d'accordo, lei è così. E così anche Vauro insulta la Meloni. Dice Meloni ha detto a De Luca quella str. Sono d'accordo con il presidente del consiglio, dice facendo ironia. Direi che la Meloni ha completato bene la nota filastrocca, sono Giorgia, sono cristiana, sono una donna, sono una madre, sono una str. potrebbe usarlo. Scusate ma io è due giorni che mi ribalto in parcheggio da ridere con la Meloni che dice queste cose a De Luca. Mi sono rivisto il video diverse volte perché veramente è stata molto simpatica la Meloni. Vabbè a sinistra non è piaciuta perché loro hanno, a qualcuno sì, ma a molti, a gran parte no, perché loro vedono la Meloni con livore rancoroso, con astio invidioso e quindi la Meloni continuano. Poi vedo per esempio che sul canale ci sono arrivati tanti di sinistra che sono i benvenuti, insomma almeno ci sono delle voci diverse, dei commenti, si capisce subito quando è uno di sinistra, no? Per lo meno c'è anche un confronto di idee, però vedo che a sinistra continuano a dire a Meloni cacciottara. Ma non riesco a capire il senso di questo insulto. Vieni sul canale, ti vuoi scontrare con quelli che commentano? Fallo, ma fallo sui temi. Ma che significa la cacciottara, la cacciottara di qui, la cacciottara di là? Davvero non... ma come? Voi non siete quelli che dite di essere superiori, di avere una cultura superiore, di avere più studi, di aver letto libri, di saper scrivere grammaticalmente corretto, di sapere quando si va l'h, quando non ci va l'accento sulla e? Come siete quelli che sapete le cose, quelli che... dei ben pensanti e poi arrivate sul canale, la cacciottara, la cacciottara... dov'è tutta questa superiorità? Io mi aspetto che un superiore, moralmente, grammaticalmente, socialmente, arrivi sul canale e faccia dei discorsi impeccabili, dei discorsi esprimendo dei profondi concetti. Il canale della cacciottara. Così, scusate, ma non mi sembrate poi così superiori. No? Che dite? Cambiare approccio? Siete i benvenuti, ci mancherebbe altro. La pluralità e arricchimento. Eccomi qua, e la cacciottara oggi cosa ha fatto? Perché la cacciottara? Di la meloni e dici poi il tuo profondo pensiero, lo scrivi bene, in italiano molto corretto, ma la cacciottara che serve? E poi, cacciottara è davvero un insulto? Beh, cacciottara cosa vuol dire? Uno che vende le cacciotte, il formaggio, perché vendere il formaggio è un insulto? Davvero? Cioè, uno che vende il formaggio in un supermercato, per esempio quello che è al banco della salumeria, voi di sinistra lo disprezzate? Il cacciottaro? La meloni cacciottara? Quindi voi a sinistra siete così superiori anche nei lavori, cioè voi di sinistra non fate quei lavori lì, tipo vendere il formaggio, il prosciutto, voi siete tutti manager, siete tutti direttori generali, direttori delle poste, direttori di banca, siete tutta gente che dirige qualcosa, che guardate gli altri dall'alto in basso, quindi il cacciottara che cosa mi rappresenta? Un insulto? Un insulto? È un po' come quelli che vedo insultare, per esempio, Bonelli, ah, il geometra, il geometra, il geometra, ma perché adesso aver fatto come superiori la scuola di geometra è un insulto? Ma io mi chiedo, tutti quelli che insultano Bonelli dicendogli geometra, come se fosse un insulto geometra, no? Geometra Calboni e il ragionier Filini, erano due carriere, oggi andate un po' in disuso, il ragioniere non c'è quasi più nelle aziende, il geometra c'è ancora una professione, ci sono fiorfiori di professionisti che fanno progetti e costano anche tanto, quindi dire geometra come insulto non l'ho ancora capito, ma poi, tutti quelli che insultano Bonelli dicendo geometra, vorrei sapere quali titoli di studio hanno, ditemelo, fatemi ascoltare, cioè voi che offendete Bonelli con geometra, voi che cosa avete studiato? L'avete fatte le superiori? Sicuri? Che superiori avete fatto? Le avete finite le superiori? Perché io credo che tanti che offendono, per esempio Bonelli, chiamandolo al geometra, quello lì, ma davvero voi avete fatto le superiori? Siamo sicuri? Ho qualche dubbio, eh? Quindi quelli che dicono a Meloni Cacciottara offendendo chi vende formaggi e quelli che dicono a Bonelli geometra offendendo una professione o comunque un titolo di studio, ma veramente voi fate dei lavori così diversi dal vendere il formaggio? davvero voi avete dei titoli di studio? Siete tutti laureati? Perché se geometra è un insulto siete tutti laureati. Poi sapete che col diploma di geometra si può accedere all'università, come il diploma dello scientifico, del classico o di altre cose, o il diploma di ragioneria, si può accedere con tutti all'università. Quindi io vedo proprio sia a destra che a sinistra dei continui insulti su dei lavori, su dei titoli di studio, e poi sono convinto che quelli che fanno questi insulti, se li sognano quei lavori, se li sognano quei titoli di studio, dico io, ma non vi vergognate, ma neanche un po'. Ma prima di parlare o di scrivere, non riflettete, uno che ha la terza media, che insulta Bonelli, che ha un titolo di studio superiore come geometra, uno che magari fa il muratore e dice alla Meloni Cacciottara, ecco, siamo arrivati a un livello veramente devastante in Italia, c'è un livello medio, metteteci voi le parole giuste, io non posso. Arrivederci a tutti e grazie.